se dovessi utilizzare tre parole per descrivere il master SEMA dirai mettersi in gioco il master ti fa mettere in gioco sui testi, per i testi e con i testi si lavora nella pratica e la pratica permette di arrivare al tirocinio finale che io al momento sto facendo per Safarà con molta consapevolezza la pratica unita alla teoria che si studia durante il percorso rende il master ricco di emozioni oltre che di contenuti